Giovedì 1 dicembre 2016, circa 200 architetti hanno partecipato al convegno design e contract nell'hospitality, retail ufficio e residenziale, convegno di infoprogetto organizzato da action gruppo editore, strategie, arredo e allestimenti, questi i temi trattati nel convegno, molte anche le aziende presenti che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti Lo studio è formato da tre soci, ci siamo tre soci con base a Roma, tutte e tre abbiamo esperienze differenti, studi e background differenti lo studio nasce circa due anni fa, abbiamo iniziato a porre un'attenzione particolare agli interni e quindi dalla progettazione per così dire di un appartamento di un locale commerciale sino a cercare di studiare sempre il minimo dettaglio e quindi oltre ad una suddivisione di ambienti progettare anche gli arredi e così è andato sempre avanti, oggi presentiamo un appartamento privato, un locale commerciale e la ristrutturazione di una palestra di un circolo di canottieri che sta sempre a Roma e il filo conduttore è sempre questo, cioè partire da una suddivisione di un ambiente come accade sempre per poi andare a studiare sino al particolare minimi dettagli ogni singolo ambiente Grazie a tutti